La mia suocera è una fine anziana di 80 anni e ha ricevuto più volte queste telefonate di una ragazza che si dichiara di essere la nipote, che ha fatto un incidente e che vuole dei soldi, ha bisogno d'urgenza dei soldi. Il copione continua a ripetersi, quanto alle vittime sono sempre anziani. Stavolta la truffa dei finti nipoti ha colpito Casier, dove però la signora in questione ha subito intuito che qualcosa non quadrava, allertando i familiari. Questo il racconto della nuora. Nonostante l'età mia suocera è abbastanza scaltra, ha capito subito che non era possibile che la nipote la chiamasse per un incidente, anche perché la nipote si aranza, autonoma, non avrebbe mai chiamato la nonna. E quindi, fatta la segnalazione, ha esposto questa denuncia e i carabinieri gentilmente si sono preoccupati di questo e stanno sorvegliando la zona. L'aspetto più inquietante, infatti, è questo. Molto spesso i finti nipoti sanno dove e come colpire, simulando voci e situazioni credibili. Le modalità e le tecniche che vengono utilizzate e soprattutto la raccolta di informazioni sulla vittima è oggetto proprio delle nostre investigazioni. Il consiglio, il suggerimento è quello sicuramente di avvisare e di chiamare il 112, di avvisare le forze dell'ordine su eventuali presenze sospette nel proprio quartiere, nella propria zona, perché potrebbe trattarsi appunto di malintenzionati che in qualche misura stanno raccogliendo informazioni su quello che può essere il contesto ambientale nella quale l'anziano vive. Grazie. 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 Grazie.